Momenti di commozione nella mattinata il lunedì 6 giugno alla scuola media Sandro Partini di Forno in occasione dell'assegnazione delle borse di studio in memoria di Andrea. Andrea era un bambino come tutti gli altri con mille sogni e tanta voglia di viverli e realizzarli e proprio per questo motivo mamma Iris ha voluto istituire a questo appuntamento annuale un modo per tenere sempre viva la sua memoria ogni giorno. Un'iniziativa verso i compagni del suo bambino che proprio quest'anno avrebbe frequentato la seconda media composta da tre borse di studio che sono state assegnate altrettanti studenti delle classi seconde che si sono contraddistinti per merito rendimento nelle sue materie preferite storia letteratura inglese. Sono state premiate tre alunne che hanno ricevuto un contributo economico Vittoria Mari, Federica Marietti e Giulia Sandretto. Come ha dichiarato commosso la dirigente scolastica Mariela Milone il messaggio che mamma Iris vuole trasmettere a questi ragazzi è stato davvero profondo e speciale ricordare Andrea sempre. Gli amici di sempre e compagni hanno poi dedicato al bimbo due canzoni blu celeste di blanco e ovunque sarà il di rama due splendidi brani che insieme alle dolci parole di mamma Iris unito a un lungo applauso hanno commosso tutti. se sarai luna ti vedrò e se sarai qui non lo sarò